Bene Alessandro, vediamo l'esperimento del bicarbonato e dell'aceto che crea la situazione del nostro stomaco quando mangiamo e si crea l'aria, l'aria che ci fa fare i rottini. Allora, con le farbucine diamo un pezzettino di palloncino, l'andiamo a mettere al di sopra, come buffa questa cosa, mettiamo un palloncino al di sopra e col del nastro adesivo genere di quella da elettricisti, andiamo a mettere il nastro intorno in modo che ci blocca il palloncino e potremo avere tanta tanta aria così simuliamo un bel rottino bello grande come quando ci mangiamo le mentos e la coca cola light. Ora andiamo a mettere l'imbuto sopra perché qui attraverso l'imbuto noi andremo a mettere all'interno, andremo a metterci che cosa, il bicarbonato, tanto bicarbonato, tanta aria, tanta aria, tanto rottino, qua, ecco qua, noi vediamo che si sta gonfiando e vediamo il rottino simulato, quello che avviene nel nostro stomaco, lascio e... aria 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 Grazie a tutti.